Modica e il suo cioccolato partecipano oggi all'evento internazionale Geographical Indication Kick-Off Meeting, organizzato dalla Fondazione QualiVita in collaborazione con diverse fondazioni francesi e spagnole e con il patrocinio del Comune di Siena. A Santa Maria della Scala si riuniscono i 50 vertici di consorsi di tutela delle produzioni agroalimentari e vitivinicole DOP e IGP, più rappresentativi del Paese e degli organismi di settore italiani e europei. Si tratta di un meeting tecnologico per mettere a confronto le esperienze dell'EIG con l'obiettivo di esaminare gli sviluppi futuri del settore e l'agenda internazionale. Un interessante confronto per lo sviluppo delle indicazioni geografiche a livello europeo con la presenza di delegazioni da Norvegia, Portogallo, Francia, Spagna, Giappone e Svizzera. Un esordio importante del Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, presente con una delegazione composta dal sindaco della città di Modica, Ignazio Abate, dal presidente e direttore generale del Consorzio, rispettivamente Salvo Peluso e Nino Scivoletto. Il Consorzio di tutela del cioccolato di Modica, primo cioccolato europeo a marchio IGP, presenterà nell'occasione il passaporto digitale del cioccolato di Modica. Strumenti centrali del sistema sono un contrassegno e un'app con una soluzione tecnologica basata sulla combinazione di due elementi fondamentali, la stampa di sicurezza e le caratteristiche digitali. Il contrassegno personalizzato, realizzato con evoluti sistemi di stampa di sicurezza, è apposto su ciascuna confezione ed è collegato all'app gratuita Trust Your Food ideata per permettere al consumatore di accedere al passaporto digitale dei prodotti agroalimentari, verificando in modo semplice tracciabilità e genuinità del prodotto. All'amministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio, che concluderà i lavori del meeting, Consorzio e Comune faranno dono di una barretta di cioccolato di Modica IGP con contrassegno del Poligrafi, la spilla d'oro celebrativa della IGP nonché il libro di Grazia Dormiente e Peppino Leone, Modica.